Ciao a tutti ragazzi, sono Mindforcer e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Grey Hill Incident. Vi ricordate? Portai già la demo sul canale. Ora siamo sul gioco completo, quindi iniziamo subito. Allora, vediamo un po' cosa hanno combinato. Campo di grano. Kevin Northman. Amy. Quindi ce la dobbiamo vedere da soli? Eh, vorrebbero occultare tutto. Quelli della polizia. Eh, raga, però vedercela da soli contro gli alieni. Ok. è diventato un rettiliano quindi combatteremo contro gli alieni con una mazza da baseball probabilmente ma quindi che facciamo? chiamiamo i vicini e diciamo barrica le finestre stanno gli alieni ok eccoci nella stanzetta prendiamo il walkie talkie il vicinato comunica per la maggior parte del tempo tramite walkie talkie ma non me la prendo? va bene peggio per te cos'è qui? torcia a manovella portatile ma non me la prendo? qui fuori già tira una brutta aria oh ma come cazzo si aprono ste porte? mi trapassano goddammit he still hasn't fixed the tv henry tell me what you saw in the forest today you should ask rachel that crazy girl henry there's someone in your room is rachel in there? god i hope not you should stop bothering me what's going on with you henry? tell me abbiamo degli alieni ladruncoli che era il cane? oh raga ma questo c'ha qualcosa che non va è diventato tipo un rettiliano usciamo fuori a cosa vai piccolo? c'è qualcuno qui nel capannone devo trovare modo di aprire la porta che sta succedendo là dentro? piede di porco chiunque tu sia sto per entrare ehi come si è spenta anche la luce raga no max max no no raga si fa catturare così come posso raggiungerlo? eh no e quindi ho perso max no raga era per forza un alieno ora funziona la tv oh avvistamenti ufo lunatici e teori conspiraci dicono di aver visto una ufo il governo ha controllato questo incidente e ha annunciato che questa ufo fortunatamente è solo un balone questo movimento che vedrai in qualche seconda è solo un riflesso vogliono nascondere tutto non va bene sì però pensiamo a sopravvivere questa notte ditemi come faccio a controllare? ma mi volete è morto ecco Ah cazzo di paura raga Hai spuntato il walkie talkie Pensavo che fosse un alieno dietro alla porta Ma scusate perché tutti ci barricano in casa E io sono l'unico str***o che deve andare a controllare Raga io sento dei passi attorno a me Ma sentite raga Lampione Delle mucche Le mucche sono le prime ad essere rapite Entriamo nel campo del nostro vicino Non è che si trova nel trattore È tutto rotto ma che è Oh ma c'è del sangue No Una mucca è stata uccisa No anche un'altra Oddio C'è qualcosa? Cos'è? Delle luci strane Eh niente raga non so che fare Abbiamo solo capito che c'è qualcosa che non va Forse è meglio tornare a casa? Che dite? Ah poi io lascio la porta aperta no? Ma può entrare chiunque Lui è ancora qui L'unico che mi tiene compagnia Tutto bene? Raga mi sono nascosto nel trattore Ah c'è un registratore C'è un messaggio da parte di Joe Person Oh ma non è che cercano di prendere anche me? Qualche alieno che sta parlando Forse è meglio uscire C'è una luce lì Oh Ma che è un gatto? L'ho preso Ecco la roulotte No Eccomi Lo sapevo Lo sapevo Sì Perché non stai un po' più attento Al tuo animale domestico? Sta succedendo qualcosa Diglielo Ci sono gli alieni insomma Eh no Dovrei Eh però non ti incazzare Prendiamo la carta stagnola Che sta succedendo? Dov'è il monitor? Che devo fare? Ok Che sta succedendo? Devo controllare il monitor Che c'è? Oh raga Ma stanno prendendo Una navicella Va bene ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E un commento Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.